La metà se n'è andata di questa frazione supplementare di questa gara 4 della finalissima valida per la conquista dell'ottantesimo scudetto dell'occhio su ghiaccio italiano Armin Elfer il taglio in mezzo, non c'è nessuno però dietro era intelligente la finta di Sirianni dietro non c'è nessuno, allora Johansson ad allontanare sul cambio c'era forse un uomo in più sulle ghiaccio per il Val Pusteria quanto chiedono anche Vassegna il Val Pusteria e allora 2-2 Offer, incredibile, va a fare il 2-1 e con lo stesso punteggio ma con la necessità dell'overtime Sadden Death, il Val Pusteria ha fatto la serie sul 2-2 si ritorna a giocare lunedì a Bruni, ore 19.30 sarà necessaria anche un'altra gara, sicuramente quella di giovedì 24 di nuovo qui alla Ritten Arena alle ore 20.30 grande numero di Offer che è un difesore, si beve Ingemar Gruber con una finta davvero attaccante e poi Chris Mason, probabilmente questo ragazzo ha sbagliato tutto, doveva fare l'attaccante perché qui ha fatto un numero veramente da attaccante di razza Armin Offer ha fatto esplodere la fetta di pubblico, andiamo a vederla eccola qui la fetta di pubblico del Val Pusteria tutti sotto alla curva pusterese per dire sì ce l'abbiamo fatta 2-2 la serie torna in parità la serie continuerà